genio di sabbaku scendi su di noi genio di dada imponi il tuo carisma su di noi il genio del mastro conducici alla vittoria genio del fantasma delle nevi assistici genio di cesaro aiutaci man mano che andremo a fare la live la run contenuto eccoci qua fammi cambiare un attimo posizione così comunque mi dovreste vedere buono voglio fare un po di di challenge voglio fare questa perché mi sono andate troppo male le le run che ho fatto allora ok abbiamo già la chiave dobbiamo andare a mega satana ovviamente però partiamo già con dei personaggi un bel personaggio sbroccato abbiamo coltello scudo coltello scudo chiave già in saccoccia che potrà che è molto utile e abbiamo il boomerang vabbè questo è lunga ma in teoria aspetta non la posso spostare bene cominciamo subito alla stragrandissima è il cortellaccio ci abbiamo siamo con isaac questo lo fa anche il figlio di gabbo rip vabbè partiamo già belli sbloccati eh boom lo sto facendo in teoria dovremmo essere forti perché abbiamo lo scudo che ci protegge se trovassimo beh mega satana però è bello tosto eh e la strada per arrivarci è bella lunga dobbiamo affrontare mamma il cuore di mamma isaac insomma è lunga eh cortello già è buono comunque stiamo a vedere tra l'altro non mi ricordo manco più tra l'altro abbiamo pure questo che blocca i nemici probabilmente queste sono quelle challenge che vengono fatte per dare la speranza ai videogiocatori di isaac dico oh ti abbiamo martoriato a forza di darti delle run terribili delle challenge terribili infatti questa qua è la 26 che viene dopo la speed run un sacco di challenge bruttissime infatti oh per consolarti un po' sai che c'è ti mettiamo una run dove sei subito pazzo sgravato così almeno ti ridiamo ancora ti facciamo tornare la voglia di giocare a dice che la tua puoi prenderti la tua vendetta su questo gioco con questi personaggi rotti ecco ma è una gioia però eh ci serve un comunque ci serve qualcosa la svolta ok non so cosa serva ma va bene così ma è easy win speriamo state fermi eppure forte il boomerang eh ragazzi ritendo e scherzando eppure forte 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 perché blocca i nemici siamo un tipo dei cavalieri degli avventurieri bella come idea oh che bello parare i colpi ah tu cesaro ci giochi sempre da da ps rip aggiunge veramente tanto eh al gioco dai easy stanza segreta no ovviamente no dov'è il boss oh no ok easy easy super secret a sinistra subito boom non c'è ma dove a sinistra è un c'è questo hud esce automaticamente con il gioco in realtà però so che in rebirth non c'è ad esempio la devi installare tu con qualche tipo di mod bella sta super secret oh oh vabbè siamo rottissimi easy hpa tears up shot speed down eh questo potrebbe essere un problema però ah ma era pure una stanza xl no ho perso il patto questo potrebbe guarda is mi doveva fare danno così a caso va bene va bene ci sta ci sta non è male non è male ma dobbiamo trovare dei patti ragazzi perché siamo personaggi forti ma così non lo facciamo mega satan come l'ultima volta c'era davvero ma cambiano pumpkin eh sì pimpi no ok mamma mia che fastidio questo è ok ok con musica chill in sottofondo vabbè forti siamo forti eh dovremmo aumentare un po' il danno secondo me ma non ci possiamo lamentare è vero abbiamo anche la possibilità di usare la scala in realtà c'è gli oggetti quelli giusti ce li abbiamo in realtà qua ci potrebbe essere una stanza segreta ad esempio tipo qua potrebbe esserci e infatti non c'è chat nell'ottica di completare i post it dei vari personaggi quali challenge mi consigliate di fare? tutte in che senso completare i post it? dai che sfiga ho bloccato solo uno beccati questo no oh dai almeno per una volta me la prendo circo con sto personaggio l'unica cosa di cui mi devo preoccupare è avere degli oggetti e dei patti is is oh così è bello giocare a te banni con Isaac eh che cos'è la lima? no more spikes? hmm zuc zuc cosa Aiden? ciao Gianco chi? dov'è Gianco? non c'è no questa qua bruttissima distanza è che posso fare oh ho le cursed senza spuntoni? buono guarda vedi? le sacrifice? quando trovi il missing poster come cavolo si chiama? no spariscono lo tolgono dal gioco proprio trovato una volta nella vita? ovviamente tolto dal gioco le sacrifice così non poterlo sbloccare mai finirà che finirò il gioco e ancora dovrò sbloccare tipo the lost ok troppo facile sto gioco troppo troppo tipo qua è vero guarda ciao Luca ciao sono proprio io va bene ciao Luca eh eh vero guarda sì ma il mercato in tutto ciò? ma che non mi fa andare mostro? sai che fo? questo mi dà bombe gratis azz sì la prendo eh stanza segrete boh piglia tutto challenge belt ottima con sette monete che devo pigliare ragazzi devo fare i soldi provo a rifarli ma che non muore mai lui e ovviamente mi deve far danno e comunque non siamo immuni a tutto eh ok fart room no no 12 12 12 dai ando un passo speriamo di trovare tre monetine nella stanza via via ma che devo pia e andiamo a cercare tutte le tutte le possibili secret easy no bene facile ovviamente abbiamo perso tutte le chiavi per niente abbiamo recuperato le chiavi dai 13 dammi due monetine insomma vabbè santo perché perché nessuno non ha fiducia nessuno ha fiducia in me ciao serena easy fatta era proprio ciò di cui avevamo bisogno tra l'altro dai questo è il genio di sabbaku che ha intercesso ha imposto le sue mani su di noi ragazzi è la fortuna allora andiamo 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 ah ok scusami santo tuk un damage up challenge up potrebbe essere rischioso ma a noi non ci frega nulla non temiamo nulla la stanza segreta l'abbiamo presa super secret no allora però un cuore blu l'avrei preso molto volentieri eh qua ecco no rottissimi siamo rottissimi mamma mia che brutta roba oh buono però eh questo molto meno destruction potrebbe essere buono double moon cosa fa doppia secret ma questo mi evita le spikes potrebbe essere anche più utile esatto e qua puntiamo vi ricordo che abbiamo fatto già una xl noi eh puntiamo al patto di satana sperando di ottenere qualcosa di buono o speriamo in un patto angelico nei piani successivi che comunque oh in repentance i patti angelici li hanno rotti cioè sono tutti fortissimi gli oggetti del patto angelico eh vada al diavolo vado subito al patto angelico basta mi ha convinto a zareus ciao santo allora vediamo un po' insomma sta come sempre vedi qua è molto più comodo eh ola ok easy no 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 stai fermo no che cabola non prendo danno ma come ha fatto vabbè rip oh buono range la cap così non so magari provate a vedere se è un problema del vostro device in teoria non non dovrei soffrire meno male questo qua eh meno male che abbiamo sto scudetto manco l'inter c'ha sto scudetto qua c'è ancora qualcuno quando stai fermo ok ok abbiamo trovato subito no ok vabbè easy easy soldi però prima vado al mercato va chissà sicuramente se non troviamo chiave è un problema infatti ma troveremo sicuramente almeno una chiave da qua al negozio no tutte bombe improvvisamente stanza segreta sì soldi anche perché no vabbè tanto le chiave ce le abbiamo già non abbiamo bisogno di bombe soldi ciao eh devo ricordarmi che con questo oggettino ma che fa sto matto no I can see forever molto buono ciao pimpi oh oh eh na 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 adesso sono in full modalità proprio turbante dov'è il negozio dov'è dov'è mostri ma dopo cerchiamo anche magari qualche cuoricino e insomma è come nella ballata del vecchio marinaio water water everywhere and not a drop to drink proprio acqua ovunque soldi ovunque senza possibilità di spenderli dammi un cuore blu dammi un cuore blu ma che le hanno tolti in rap intanzi i cuori blu sono dieci volte più difficili da trovare rispetto a una cosa normale tulbante e così possiamo anche vedere se c'è la super secret tra l'altro ovviamente qua non c'è qua goloso the sun lo usiamo per il piano dopo usiamo sto cuoricino vabbè li posso prendere così mi da subito il cuore più e il the sun lo prendiamo dopo non siamo a mamma immagino adesso pongoli no esatto fermo dai fermo no via via un 11% ovviamente non ci ha dato il patto angelico i shot speed up potevo usare anche dei cos'è era walk cosa fa era walk eh il patto angelico rip rips schifo pia fa schifo rallenta tutto mi pare con mega satana potrebbe essere buona se ciao da qua mega satana mi sa che l'avremmo usata centomila volte io tengo the sun piuttosto che mi cura pure insomma e poi c'è la x no tengo the sun tengo the sun sto tutto sto tutto conservativo io il boss sarà sicuramente dalla parte opposta andiamo di qua ci ho capito ma mi mancano diecimila piani non non tengo questa carta fino a mega satana non sta facendo il suo comunque qua tra l'altro no non si capisce se è una tinta o meno tutto questo overlay comunque che hanno messo in repentance figo è molto figo ma a volte dà fastidio cioè riesci a vedere solamente la parte centrale perché da una parte c'è la mappa che copre sotto c'è i trink e le carte sopra c'è i cuori di lato c'è gli oggetti i valori praticamente ti dà la libertà di visione solamente al centro e le cose periferiche e vabbè saldi oh 25 coin buoni ma è pazzo ma come son pazzo son pazzo sgravato furioso no ma che prendo danno da sto mostro oh grazie ragazzi easy 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 tutto troppo facile sto gioco molto meglio così eh ragazzi no boss l'abbiamo raggiunto ovviamente dobbiamo trovare ancora il negozio e dove sarà dalla parte opposta presumibilmente allora facciamo così vabbè subarashi sei pazzo furioso dai dobbiamo trovare il negozio per forza abbiamo 63 moneti e ciao questi qua io li odio meno male che abbiamo sto scudo is io mi immagino quando dovrò fare queste robe qua I can see forever va bene almeno se trovo la super secret meglio no e questo la uso in questa stanza qua no sto mezzo cuore me lo vado a prendere siamo a mamma però aspetta un attimo siamo a mamma sì ma perfisco tenerle mi consigliate di prenderlo il mezzo cuore subito ma dove cavolo è il negozio che ho girato tutto io lo prendo dov'è il negozio nell'unico posto in cui non sono stato ovvio no manco qua è oh mollami dove è il negozio prima della stanza del boss dice subarashi ah è qua mamma mia abbiamo pure la maledizione di tutankamon per la scienza lo si prende ma è pure buono però è molto più buono quello che che blocca ah sì se io faccio ah hai capito proprio top mariuolo zac vabbè pio tutto ah ma non ma qua non l'ha preso scusami vabbè ma ci piegò cent'anni e quante pratiche particolari che ha dei bannico vai zac top mariuolo zac 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 sì però queste due le lascio indietro perché tanto allora la bomba tanto c'ho i sordi ma che me frega no mi tilta che c'ho 68 munite hola no non siamo ancora mamma oh state buono no 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 uuuu damage up troppo facile questo gioco è chiaro pure un altro mezzo cuoricino me lo palpo tutto e lo prendo sulla fiducia ma funziona funziona col coltello homing shots abbiamo preso il cuore il sacro cuore di gesù buonissimo un cuore blu manco a manco a pagarlo beh il danno adesso ce l'abbiamo veramente buono abbiamo 15 di danno lo sciogliamo omega satana l'unica cosa che ci manca è protezione in realtà abbiamo lo scudo ma fa tutto quello che dovevamo avere l'abbiamo preso genio di sabbaku dove sarà su o giù per me è sempre giù cioè adesso li sciogliamo i mostri però si penso che sia uuuh è homing proprio homing shots stuk aaaah volete venire qua invece manz la cap molto buono se perde così vabbè mamma mia il divino che me la tira sempre è incredibile il divino top gatto nero ma che non abbiamo neanche le spike godo potrebbe essere qua la secret ovviamente no vediamo un po' un altro la cap ne vale la pena vale la pena prendere qua di solito io non lo faccio ma oh è gratis buono una bomba ci provo andiamo al negozio con gira io mi io terrei gira caspita io la terrei gira e se si trova qualcosa di goloso hai ragione potrei tenere gira per le stanzine matte vabbè se trovassimo anche il negozio saremmo a cavallo proprio rotti come se non ci fossero domani col sacro cuore di jesus ecco questo già potrebbe essere problematico no 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 ho bisogno di shot speed up shot speed up guarda te se devo prendere danno dal mosto del void le secret possono essere adiacenti sulla stanza nelle quali non ci sono ostacoli tra le pareti e lungo tra la bomba qui se ci sono rocce supine cubi neri o qualsiasi altra cosa accanto alle pareti dove aspetta che ci saranno sì che questa non potrà esserci ok eh ma io di solito vado al sentimento il boss abbiamo subito capito dove fosse però mamma quindi voglio spendere tutti questi soldi incredibili andiamo al market va tanto l'oggetto il patto ma che ci frega no doveva farmi danno qua ovviamente no stai fermo allora non è il negozio oh sarà qua no e stai calmo oh due cuori sono buoni stuk stuk soldi tutto pieno di soldi sono tipo qua potrebbe esserci la stanza scusami e infatti c'è vedi siamo così pieni di pecunia sì vabbè 97 monete non ho nulla dove spendere tutti questi soldi volevi eh volevi ma che ma perché aveva preso una gittata improvvisamente gigantesca guarda va bene va benissimo guarda troppi soldi troppi non so nemmeno se vedi una sacrifice a piano lo trovi sempre che tilt l'unica volta che non ci sono ovviamente quando c'hai l'oggetto per sbloccare the lost al diavolo va abbiamo fatto oggettivamente tutto il piano dov'è dalla parte opposta ovviamente di nuovo la maledizione perché è giusto così sono trasformato in mamma cosa fa il braccialetto di mamma se magari money equal power prendo immediatamente questo spendo tutti i soldi possibili immaginabili scusatemi ma non ha senso che me li tenga sposta le pietre ma come sposta le pietre abbiamo doppio cortellaccio così possiamo abbiamo una sorta di orbitale offensivo ok 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 possiamo finalmente affrontare il boss non mi esce più la durata della run però con questo hud non mi esce più da quanto tempo sono dentro la run me ne sono accorto adesso meglio però mi fa strano di solito sono abituato a vedere circa quanto tempo sono dentro una run via bra zuc certo beh perché mi dà il negativo io di solito per fare mega satana vado sempre al positivo ho almeno un cuoricino blu prendo la polaroid poi prof così davanti mega satana e appaiono quattro chest dorate non c'è non c'era la possibilità c'era solo il negativo vedi vabbè qua dov'è il boss tutto giù c'era solo il negativo mi dispiace speed up molto buono non serve a niente non so come mai si è volevi eh vabbè facciamo i buchi ancestrali prendo ancora un po' di danno apro il buco nero esce fuori proprio il creatore di ice mi dice no basta bro non riesco più a muovermi ok meno male mini boss mini doppio mini boss vabbè così per il meme struk is son ronaldinho è certo è certo venga venga signora anche meno però per una volta che c'ho la challenge sbroccata me la godo e ci mancherebbe per me è molto più giù di nuovo no mamma mia mi ero in pantana ovviamente ovviamente dalla parte opposta ma che strana piega fa il coltello ad un certo punto questo homing shots è il cortello sembra il film con Angelina Jolie che piegava i proiettili struk va bene no shot speed down no però e dov'è sto boss struk buono buono mi carico di cuori come se non ci fosse un domani proprio va bene quattro bombe oh ecco stai calmo mi stare molto calmo ah ma fa danno pure lui però adesso che che osservo bene io non rischerei troppo con le pillole eh ma potrebbe esserci qualcosa di buono stai calmo si dovevi farmi quel danno lì che non c'entra nulla ah è vero range up molto buono ma siamo già al cuore di mamma mi doveva togliere il patto ah mi doveva togliere il patto così proprio che palle che palle che fastidio che l'occhio perché sono stato gridi pensavo di eliminare il cuore di mamma prima che l'occhio mi potesse sparare invece manz ovviamente ciao alessia buon pomeriggio ciao filsteo buon pomeriggio buon pomeriggio dove sarà il boss farmi di qua sì guarda quanto godo proprio che ti stompo subito oh cinque bombe magari mi dai un cuore bluetooth no ovviamente no però qua ovviamente no sono stato tutto tutto avido gridi pensavo di essere così sbroccato da poter shottare il cuore di mamma siamo forti ma non dobbiamo mancare di rispetto al gioco se no lui subito manz ci punisce proprio le regole è proprio base di isaac questo vedi se lo trattiamo con rispetto lui ci tratta con rispetto e ci dà il cuore blu volevi volevi e mo ce ne dà pure un altro guarda no adesso non esageriamo ovviamente boss qua non era mai potrebbe essere qua potrebbe no no ovviamente qua non è se secondo voi ci sono delle stanze segrete ditemelo eh sì ma non vorrei sprecarlo per un solo cuore blu per un solo solart se ne trovassi tipo due allora ci penserei ma per uno no e neanche qua perfetto perfetto proprio io lo userei con le chest prima di satana prima di mega satana ma appaiono anche se non abbiamo preso il positivo però sì potremmo raddoppiare quindi gli effetti benefici degli oggetti si può anche stare dai spara guardate quanti soldi che ho ma capita mai di fare tutta sta pecuni ovviamente quando non serve a nulla questo potrebbe essere pericoloso ok ricordiamoci dov'era ovviamente la parte opposta del piano lo fanno opposta secondo me lo decidono al momento dove siano i boss azza death no affisco questo allora ah ma sono patti satanici vabbè easy così li prendo a gratis ottima idea stiamo tutti così evocando il genio il genio di sabbaku il genio di dada il genio del mastro il genio del fantasma dai me la sento me la sento si shotta isaac no satan è vero sempre un secondo dopo eh mamma mia siamo sbroccatissimi e si gode mamma mia quanto si gode shottato sono tutto fazlinguetta no no però mica satan è tushed yeah col doppio ma le apro tutte le apro tutte le posso aprire tutte o spariscono le posso aprire tutte devo uso gera immediatamente le apro tutte le apro tutte e poi uso gera uso subito gera prima gera poi prima gera scusatemi prima gera come si usava la carta ah raddoppia le casse quindi faccio così però io questo lo pio scusatemi per un cuore ma money equal money con 95 monete zoom se ho capito io ci provo perché almeno easy 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 lo posso pure bloccare no con il boomerang ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh la, tu easy, non capiterà mai più un arancosi rotto nella vita. Poker cheap? Easy, easy.